Esseminiamo in questo breve filmato che cosa si intende per data breach, che è un termine introdotto nell'ordinamento italiano tramite una legislazione di natura europea, questo famoso regolamento europeo. Lo stesso garante, quando viene adottato il regolamento europeo, presenta così questo data breach, la violazione dei dati personali. Afferma che il titolare del trattamento deve comunicare eventuali violazioni di dati personali, appunto data breach, questo è lo sbracco nel dato, il taglio della protezione dei dati. Deve comunicarli all'autorità nazionale di protezione dei dati, che è il garante nel nostro caso. La normativa di riferimento è questo regolamento europeo, come sappiamo, del 2016, che è entrato in vigore in verità esattamente due anni dopo, nel 2018, e viene chiamato anche regolamento sulla privacy, ma stiamo attenti perché è riduttivo chiamarlo così, perché in verità è un regolamento che affronta un tema che è più ampio della privacy, il tema della protezione dei dati personali, la cui efficacia, la cui importanza non si limita soltanto alla questione della privacy. Ebbene, in questo regolamento, all'articolo 4, sono descritte quelle che sono le violazioni. Nell'articolo 4 è un articolo molto importante che contiene le definizioni che sono utilizzate nel regolamento. Tra le definizioni, l'articolo 4 spiega cosa si intende per violazione. La violazione comporta una violazione di sicurezza, quindi quando parliamo di violazione noi intendiamo una sorta di patologia che colpisce la sicurezza del dato. Il dato non è più sicuro come prima. Questo vuol dire diverse cose. Noi siamo tenuti ad evitare le violazioni, quindi ad assicurare il presidio sul dato, garantire che vi sia una costante sicurezza sulla protezione dei dati. La violazione quindi è un deficit di sicurezza. La sicurezza da noi approntata non ha funzionato e ha consentito quindi in qualche modo, come dire, l'accesso in debito o vediamo che cosa questi dati. Che comporta accidentalmente o in modo illecito. Quindi la violazione non possiamo regarla al dolo. Attenzione, stiamo attenti a chi di noi è convinto magari che vi sia l'esigenza di doversi giustificare dicendo ma io non l'ho fatto apposta, quindi tutto sommato non ho colpe. Perché il regolamento punta l'attenzione non sulla responsabilità del gesto, ma sul fatto che il gesto si sia verificato e poi cerca il responsabile. Non lo spiego meglio. Quindi il regolamento è fatto in maniera tale che si vuole evitare che si verifichi la situazione di violazione. Quindi quello che importa è che una volta che si è verificata adesso si cerca chi è responsabile. La violazione quindi non è legata alla intenzionalità. È una violazione anche quella che si verifica accidentalmente. Quali sono i casi di violazione? In questo articolo 4 nel punto 12 i casi di violazione sono questi che vedete. La distruzione, la perdita, la modifica, l'accesso o la divulgazione. Vediamo quando possono manifestarsi questa situazione. Che cos'è la distruzione? Per esempio la cancellazione di un dato sia informatico che cartaceo, la distruzione materiale di un documento cartaceo informatico che sia o comunque qualsiasi operazione che ne comprometta l'integrità. L'integrità, cioè che comprometta la composizione originaria del documento nella stessa forma con cui l'abbiamo concepito, dobbiamo mantenerlo, dobbiamo conservarlo. L'integrità. L'integrità fa riferimento nel caso del documento cartaceo anche al supporto che lo mantiene. Nel caso del documento informatico con l'integrità fa riferimento al testo che sia quindi fedele, identico, lo stesso di quello originario. Cosa si intende per perdita? È l'impossibilità di reperire un documento perché si è smarrita, perché non sappiamo dove l'abbiamo collocato, quindi non è distrutto il documento, il documento c'è o il dato c'è, ma non sappiamo dov'è, non ne abbiamo le tracce. Quindi la perdita è questa, la irrepedibilità di un dato. Come vedete, qui l'argomento non riguarda la privacy, anche nella distruzione. Se si perde un documento il tema non è la privacy, ma è la violazione del trattamento del dato. Non abbiamo messo in atto le misure necessarie per garantire che il dato potesse essere reperito all'occorrenza. Anche la modifica è una delle violazioni, il fatto che si alteri il contenuto di un dato, di un documento, una data di nascita, da residenza o uno stato civile o che so io, una qualsiasi situazione che non corrisponda a verità fondamentalmente. E poi sì, quegli aspetti che sono più direttamente collegati alla cosiddetta privacy. L'accesso, quindi l'indebita acquisizione di un documento o di un dato, la conoscenza indebita di un'informazione di carattere personale che può derivare da un'autorizzazione ingiustificata, da una visoria involontaria o peggio ancora dal fatto che qualcuno riesca ad entrare in maniera fraudolenta in un archivio. E poi la divulgazione. La divulgazione è un'altra delle violazioni tipiche contenute nell'articolo 4 perché riguarda il fatto che un soggetto, per esempio, consenta la diffusione, che qualcuno di noi, violando quindi la sicurezza a cui siamo tenuti, il presidio dei dati personali, consenta ad una persona che non ne abbia l'autorizzazione di entrare a conoscenza delle informazioni. Ma la divulgazione è un aspetto diverso perché la divulgazione, come dire in qualche modo, rappresenta più dell'accesso perché riguarda una mole anche indiscriminata di soggetti oppure anche se definita ma ampia. Il dato è stato divulgato, cioè reso noto all'esterno. La divulgazione segue la disciplina in materia di pubblicazione dei dati. Sappiamo che questo è un tema importante, la contemperazione tra l'obbligo della trasparenza e i principi in materia di trattamento dei dati personali. Quindi ricapitoliamo gli aspetti che possono portarci al data breach, sono le violazioni del dato che riguardano l'istruzione, la perdita, la modifica, l'accesso e la divulgazione. Ma vediamo come la questione è trattata, per esempio, nel regolamento europeo. Il regolamento europeo, l'articolo 33, afferma che in caso di violazione dei dati personali, adesso sappiamo che cos'è la violazione, il titolare del trattamento, attenzione che può anche essere una persona giuridica, è un ente locale, per esempio, è un'azienda, non è necessariamente una persona fisica, notifica la violazione all'autorità di controllo, che nel nostro caso è il garante. E deve farlo entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il titolare, quindi l'ente. L'ente, una volta che ha conoscenza di questa violazione, entro 72 ore deve notificarlo al garante, a meno che sia improbabile che la violazione rappresenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Quindi c'è una valutazione da mettere in atto, bisogna valutare se questa violazione, ecco l'oggetto alla violazione, possa o meno rappresentare una probabilità che vi sia un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Non dimentichiamo che l'argomento nostro non è la privacy, ma sono i dati personali e se si compromettono questi dati, questi possono comportare un rischio, sicuramente la sicurezza di questi dati. Se si ritarda rispetto alle 72 ore, bisogna giustificare i motivi che hanno comportato questo ritardo. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza giustificato ritardo. Qui i soggetti sono due. Il primo comma evidenzia gli oneri del titolare del trattamento, l'ente nel suo complesso. Il secondo comma evidenzia l'onere del responsabile del trattamento, che è il soggetto che gestisce il dato, il soggetto che organizza il presidio, organizza la sicurezza, organizza il trattamento del dato, infatti ne è responsabile e quindi una volta che ne ha conoscenza, informa il titolare, dopo essere venuto a conoscenza della violazione, immediatamente, senza ingiustificato ritardo. Mentre il titolare è a 72 ore per informare il garante, il responsabile del trattamento deve, senza ingiustificato ritardo, informare subito il titolare. Da quell'istante scattano le 72 ore. Si può discutere cosa accade se il responsabile è il trattamento interno all'ente. A mio avviso non si può giocare molto su questi termini, perché ogni momento può anche essere critico e determinante. L'articolo 33 continua affermando che la notifica deve contenere questi aspetti, deve descrivere la natura della violazione dei dati personali, qual è il tipo di violazione che c'è stata, evidenziando anche quali sono le categorie dei dati che sono stati compromessi, il numero approssimativo delle persone interessate di cui si è compromesso il dato, 100 contribuenti, 50 bambini, eccetera. Nonché le categorie, il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione. Quindi le categorie degli interessati e le categorie delle registrazioni dei dati. Che tipo di dato abbiamo registrato? Il nome, i dati di contatto del responsabile del DPO, della protezione dei dati, le probabili, questa importantissima conseguenza della violazione dei dati personali. Quindi la violazione che abbiamo accertato c'è stata, altrimenti non avvieremo questa procedura, quali sono le conseguenze al nostro avviso che questa violazione può avere comportato? E poi immediatamente quali misure sono state adottate o si propone di adottare da parte del titolare per porre rimedio alla violazione dei dati. Quindi non le misure adottate in precedenza, quelle anche vanno verificate per capire se la violazione deriva da qualche deficit di misure di prevenzione, ma in questa fase dobbiamo informare quali misure sono state proposte, adottate, previste per porre rimedio. Non so, contattare la persona che ha avuto l'informazione e bloccare l'emorragia di dati, eccetera, eccetera. Lo scopo di queste misure è quello di attenuare i possibili effetti negativi, cioè limitare questa indebita divulgazione, oppure nel caso in cui la violazione riguardi il blocco, vediamo più avanti l'impossibilità di accedere, vedere come fare a rimediare in questo senso. L'articolo 33 continua affermando che qualora, nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, possono essere fornite in diverse fasi, senza ingiustificato ritardo. Questa è una frase importante che ricorre facendo comprendere che vi sia una sorta di responsabilità laddove il soggetto manifesti di aver ritardato nella comunicazione al garante. Il titolare documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze, le conseguenze, i provvedimenti adottati, per poter mettere l'autorità di controllo nelle condizioni di poter verificare il rispetto di questo articolo. Per finire l'articolo 34, parla di questa comunicazione di personali e dice quando la violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà fisiche, il titolare del trattamento comunica all'interessato senza ingiustificato ritardo. Quindi qui il tema di questo articolo è, l'abbiamo visto prima, l'articolo 33 fa riferimento all'obbligo che il titolare ha nei confronti del garante, deve informare che c'è stata una violazione, l'articolo 34 invece parla degli obblighi che il titolare ha nei confronti delle persone fisiche che sono coinvolte nella violazione. Per facilitare la lettura ampliamo la slide, quindi quando la violazione è soggettibile di rischio elevato per i diritti e la libertà delle persone fisiche, rischio elevato, quindi che siamo in un livello di rischio elevato, il rischio riguarda i diritti e le libertà, non soltanto i dati, i diritti e le libertà, perché se il dato è compromesso ma non c'è rischio elevato per i diritti e le libertà, quindi quando c'è questo rischio elevato il titolare, quindi ecco il soggetto tenuto a farlo, comunica la violazione all'interessato senza il giustificato ritardo. La comunicazione descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni misure di cui l'articolo 33 3, paragrafo 3, lettera B, C e D, eccoci, B i nomi del contatto del responsabile della protezione dei dati, C le conseguenze che possono essere determinate da questa violazione, D quali misure sono state adottate, quindi si scrive all'interessato comunicando queste cose. Il comma 3 dice che non è richiesta la comunicazione all'interessato se è soddisfatta una delle seguenti condizioni, per esempio se il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tale misure erano state applicate da dati personali e oggetto di relazione, in particolare rendere i dati incomprensibili a chiunque non si è autorizzato ad accedere, quindi c'è stato un furto di dati, ma i dati sono incomprensibili per chiunque, quindi in qualche modo non vi è, torniamo indietro, quel rischio elevato per i diritti e la libertà delle persone fisiche. Lettera B, il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atti a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato, quindi c'è stato un rischio, ma è stato contenuto e non è elevato, quindi non occorre che lo comunichi all'interessato. C, questa comunicazione richiede sforzi sproporzionati, in tal caso si procede invece a una comunicazione pubblica e questo è un problema serio, nel senso che anziché scrivere direttamente all'interessato, si dice al mondo intero, sappiate che c'è questo problema, affinché gli interessati possano essere informati con una forma che abbia, vuol dire, una analoga efficacia. Per finire, il comma 4 dell'articolo 34 afferma che nel caso di un titolare il trattamento non abbia ancora comunicato all'interessato la violazione dei dati, l'autorità di controllo può richiedere dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati presenti o rischio avevato, che vi provveda o può decidere che è stata soddisfatta una delle condizioni del paragrafo 3 che abbiamo visto prima. L'autorità garante dedica una pagina intera del suo sito, devo dire il sito dell'autorità è molto ben fatto, è molto ben articolato, è di facile navigazione, non possiamo dire altrettanto col sito di altre autorità. Ecco qui, violazioni di dati personali, data breach in base alle previsioni del regolamento. Ed è interessante il fatto che il garante stesso, vedete, articoli, la guida spiegando che cos'è una violazione, quindi accidentalmente o in modo illecito, vedete, distruzione, perdita, la modifica e divulgazione non autorizzato all'accesso, le caratteristiche elencate prima nell'articolo 4, scusate appunto, 12. E fa gli esempi possibili, l'accesso, l'acquisizione di dati da parte dei terzi, il furto o la perdita di dispositivi informatici che contengano dati personali, la deliberata alterazione dei dati personali, beh direi una violazione sicuramente, l'impostibilità di accedere, quindi che è diverso, in cui siamo all'accesso al furto da alterazione, qui invece è una violazione che deve avere il fatto che non possiamo accedere ai dati per cause occidentali, c'è un virus che ci impedisce di accedere ai dati, oppure la perdita o la distruzione, oppure la divulgazione che non sia stata autorizzata. Che si fa nel caso in cui vi è una violazione dei dati personali? Il titolare, l'abbiamo letto prima, senza ingiustificato motivo deve subito comunicare al garante, deve documentare la violazione, che tipo di violazioni dei dati personali vanno notificate, no? Vanno notificate quelli che possano avere effetti negativi sugli individui, effetti avversi negativi, le gravi violazioni. Qui dice il garante, c'è una guida, quando serve la notifica al garante e quando alla comunicazione agli interessati. C'è un video su YouTube che vi invito a vedere. Come si avvia la notifica del garante? Questo è molto importante. Dal 1 luglio 2021 la notifica del garante deve essere inviata tramite una apposa procedura telematica, che vediamo direttamente qui. Ecco, questa procedura telematica, notificazione di violazione dei dati personali, prevede una autovalutazione. Quindi il soggetto descrive come valuta questo rischio a cui è assistito, di cui è vittima. Autovalutazione, si è verificata un incidente di sicurezza che ha comportato, integrità di dati, sì o no? Qui si sceglierà sì la casella oppure no, secondo i miei casi. Che cos'è un incidente di sicurezza? È un evento o una serie di eventi di origine dell'Oss occidentale, esterno o interno, che può comportare la, ecco qui, la compromissione dei dati detenuti da un'organizzazione, mettendo a rischio uno o più dei tre principi della sicurezza dell'informazione, cioè riservatezza, integrità e disponibilità. Un incidente di sicurezza può riguardare contemporaneamente la riservatezza, l'integrità o la disponibilità e consiste in una qualsiasi combinazione. Esempio. È stata violata da riservatezza. In caso in cui si è divulgato un dato a persone non attualizzate. Oppure, velata l'integrità, nel caso di modifica non attualizzata o accidentale dei dati, o velata la disponibilità, nel caso di perdita o distruzione non attualizzata o accidentale di dati. Si prosegue ancora, qui si seleziona, si prosegue nella pagina che spiega anche cosa si intende per dato personale, eccetera, eccetera. Ma vediamo direttamente il modello, le parti che possono riguardarci, interessarci del modello che il garante è predisposto. Il garante, in questa fase, visto che trattiamo delle conoscenze di base, ho saltato la parte iniziale, quella anagrafica. Le notizie che il garante chiede sono queste. Quando è avvenuta la violazione, momenti in cui è avvenuta dal HAL, le modalità con le quali il titolare è avvenuto a conoscenza della violazione. Quindi se, per esempio, ha avuto una comunicazione, una segnalazione o addirittura dalla stampa, momento in cui è venuto a conoscenza della violazione, che tipo di violazione è? Disabatezza, integrità, disponibilità, abbiamo visto prima. E quella è la causa. La causa può essere un'azione intenzionale interna, qualcuno che intenzionalmente ha danneggiato i dati, o accidentale, sempre interna, intenzionale esterna, accidentale esterna, oppure può essere sconosciuta. Oppure è una causa che non è ancora stata determinata, non si è ancora contezza di cosa sia realmente successo. Descriviamo questa violazione. In cosa consiste? Descriviamo i sistemi, i software, i servizi coinvolti nella violazione, con indicazione anche della loro ubicazione. Quali misure tecniche e organizzative erano in essere al momento della violazione? Cioè, prima che si edificasse per capire se quelle misure adottate potessero essere state idonee, per esempio, a evitare l'accadere della situazione che è stata appunto chiamata violazione. Che tipo di interessati sono coinvolti? Dipendenti, consulenti, utenti, associati, soggetti che ricoprono cariche sociali, pazienti, minori, persone vulnerabili? E che dimensione? Che numero? Se siamo capaci di saperlo, perché è previsto anche la lettera D, non è determinato. Che tipo di dati sono stati oggetto di violazione? Per esempio, dati anagrafici o dati di contatto o di accesso-identificazione, dati di pagamento e così via. Dati biometrici e altro. Numero anche approssimativo di registrazioni di dati personali oggetto di violazione. Quindi, se lo sappiamo chiaramente, quante sono state queste registrazioni? Le categorie di dati personali oggetto di violazione. Gli allegati, se vogliamo aggiungere un documento in allegato. Perfetto. In questa parte G si descrive quali sono le probabili conseguenze della violazione. Per esempio, i dati sono stati divulgati al di fuori di quanto previsto dall'informativa, ovvero dalla disciplina di riferimento. Se si è persa la riservatezza. Questo è il primo caso, no? Se si perde la riservatezza. Oppure, i dati possono essere correlati senza sforzo irragionevole ad altre informazioni sugli interessati. Quindi, questo è un rischio per gli interessati. O possono essere utilizzati per fidare diverse da quelle previste. Oppure ancora altro. C'è sempre la possibilità che dobbiamo ancora valutare qual è questo rischio. Se invece abbiamo perso l'integrità del dato, allora ci chiede se sono stati modificati e resi inconsistenti o modificati mantenendo la stessa consistenza originaria. O la disponibilità. Se abbiamo perso la disponibilità, quindi qual è cosa succede? Non ci consente di accedere ai servizi oppunque i servizi non funzionano come sarebbe corretto. ulteriori considerazioni e qual è l'impatto per gli interessati. Perché, come sappiamo, sono due soggetti che dobbiamo noi informare. Il primo, il garante. Il secondo, l'interessato, a certe condizioni. L'interessato può perdere il controllo dei propri dati o può vedere limitati i propri diritti oppure essere discriminato a causa di questa violazione. Oppure può subire un furto di identità o delle frodi o una perdita di tipo finanziario o addirittura si possono decifrare le sue pseudonomizzazioni. Oppure può avere un pregiudizio sulla sua reputazione, magari il dato riguardo a un fatto personale riservato, particolare. O perdono riservatezza i dati personali protetti da un segreto professionale, eccetera, eccetera. Qui ci chiede di effettuare un giudizio. Se la gravità, secondo noi, è trascurabile, bassa, media, alta o non ancora definita. Gli allegati, se si vogliono appunto aggiungere. E qui questa lettera H ci chiede quali misure sono state adottate dopo la violazione. Dopo, una volta accertata la violazione, quali misure sono state adottate. Misure tecniche, organizzative adottate per porre rimedio alla violazione e attenuare gli effetti negativi. Poi misure per prevenire simili violazioni future. E poi c'è la parte che riguarda la valutazione del rischio per gli interessati. Qui c'è la spiegazione cosa significa, ci sono suggerimenti con riferimento al regolamento. In questo caso il titolare deve affermare se ritiene che la violazione sia suscettibile di prestare un rischio elevato per i diritti, la libertà delle persone fisiche o che non lo sia, eccetera, eccetera, gli allegati eventuali. Qui ancora il tema della comunicazione e della violazione di interessati. La domanda è se sarà comunicata direttamente agli interessati. Se è arrestata oppure se è ancora oggetto di valutazione. Osso non lo sarà in ogni caso, se la basta delle questioni che prima abbiamo esaminato. Quanti sono gli interessati, che canale viene utilizzato per informare gli interessati di questa eventuale violazione, gli allegati come al solito e le altre informazioni riguardano la notifica ad altri organi di vigilanza o controllo, in massa alle norme europee. Se sarà fatta la segnalazione anche alla polizia, perché possono essere stati fatti le case di violazione o di furto di dati, in questo caso non dimentichiamo che la notifica, il garante, non sostituisce assolutamente la denuncia che deve essere fatta all'autorità giudiziaria comunque. E qui i rapporti con le autorità transfrontaliere. Questo modello interessante sicuramente deve essere consiglio che venga preso in esame direttamente dalle persone che vogliono apprendere, vogliono conoscere come comportarsi. Si trova facilmente, l'abbiamo visto prima, si può reperire facilmente sul sito del garante, alla pagina si accede cliccando in questo link che fa accedere con queste opzioni e che consentono di poter addirittura fare la valutazione direttamente in maniera telematica o di utilizzare questo facsimile. Questo è quanto il garante chiede per soddisfare le esigenze previste nel regolamento europeo ed è l'aspetto di particolare importanza, perché il nostro compito è sia attuare le misure di prevenzione perché non accadano violazioni, sia fare in modo che laddove una violazione si verifichi di essere in allerta per segnalarle al garante, se necessario segnalarle anche agli interessati e soprattutto adottare delle misure per rafforzare il presidio sulla protezione dei dati personali.